Luca Zaia, i topi e i gatti. È in atto una lotta senza esclusione di colpi tra i due governatori leghisti di Lombardia e Veneto. La posta in gioco è alta. Come passare alla storia con la dichiarazione o l'atto più sconvolgente? Senza dubbio il presidente della regione Lombardia Tiglio Fontana ha giocato tre forti a tu in soli due giorni. Prima dichiarando che essendo stato in contatto con una sua collaboratrice colpita da coronavirus si sarebbe messo in auto quarantena e qui non pochi hanno sperato in un piacevole silenzio. Poi dimostrando come un imbranato cerca di indossare la mascherina antivirus e qui ci si è sganasciati e infine decidendo di passare la notte negli uffici della regione e qui ha rotto cabbasisi e zebedei a chi si è trovato di turno ai servizi generali. Insomma mica bruscoli. A questo punto per l'allampanato Luca Zaia la sfida si è fatta vibrante. Ribattere al Fontana è diventato arduo. Una notte insonne di pensieri e di pensieri e soprattutto di telefonate con gli esperti della comunicazione trash, quella che più trash non si può. Ed ecco arrivare l'idea di mostrare come tutta la colpa dell'epidemia sia dei cinesi. Sembra una banalità ma se ci si mette dietro una robusta reason why magari la cosa può far colpo. Quindi in 4 e 4 8 ecco allestita una bella intervista dove il presidente Trevigiano dichiara che se in Veneto ci sono solo 116 casi positivi di cui parole sue 63 stanno bene questo è dovuto all'igiene della popolazione e al modo tutto locale di avere una alimentazione sana. Mica come i cinesi che in tradetto si lavano poco e parole testuali li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi e altre cose del genere. Topi vivi compreso topo gigio. Avete capito bene lo zaia luca ha visto cinesi mangiare topi vivi. La notizia ha fatto il giro del mondo un modo pittoresco per allentare la tensione sembrerebbe ma in particolare la notiziola si è fermata all'ambasciata cinese i cui diplomatici con educazione definiscono queste parole come offese gratuite. Indubbiamente Charles Bukowski avrebbe usato parole ben più chiare e pertenenti. Tuttavia in questo modo il governatore Veneto ha dato la biada a quello lombardo e anche di diverse lunghezze ma questo non gli è bastato ha quindi deciso di aumentare il distacco con scuse al di là del ridicolo. Ha detto ancora parole sue sono stato male interpretato come se una bischerata di nove parole abbia bisogno di chissà quale sofisticata analisi ermeneutica. Poi non contento ha aggiunto non era mia intenzione generalizzare intendevo fare una riflessione più compiuta. Figurassi che avrebbe detto se avesse fatto una riflessione si fa per dire buttata là senza alcun approfondimento in Veneto si dice se peso il tacon del buso. Per inciso tra i positivi casi veneti non c'è neanche un cinese mentre ne sono stati registrati tre nel vicentino. Non sarà perché come dice la tradizione i vicentini sono maniegati? Buona settimana e buona fortuna.